Fidelis 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 però anche con l'allenamento di oggi credo di averlo sciolto, domani credo che riuscirò a schierare il migliorante possibile, visto che considerato il fatto che ho solo l'unico indisponibile che è Corelli, quindi tutti i ragazzi hanno fatto la loro parte, mi hanno messo in grossa difficoltà, però domani cederò gli unici che secondo me potranno fare al meglio inizialmente.